Almeno due persone sono morte, diverse altre sono rimaste ferite a Liegi, in Belgio, per l'azione di almeno tre attentatori, che hanno dapprima lanciato delle granate nel cortile del Palazzo di Giustizia e poi aperto il fuoco sulla folla. Uno dei tre attentatori è morto, probabilmente abbattuto degli agenti, che ora hanno scatenato una caccia all'uomo per catturare gli altri membri del commando.